Il Pignia, terra della pietra e del marmo, la chimica nella Pideo è il tema della due giorni organizzata dalla D&D Forum di Antonio Pannese nel nucleo industriale di Flumeri e rivolta agli ingegneri e agli architetti della provincia di Avellino. Obiettivo riscoprire il valore del marmo in tutte le sue possibilità espressive, un materiale la cui lavorazione vanta antiche tradizioni in Irpinia ma che ha subito i colpi di un mercato dell'edilizia e del design sempre più indirizzato a materiali cosiddetti più pratici. Invece oggi con il supporto della chimica il marmo può essere considerato la materia prima più adattabile ad ogni tipo di contesto e di ambiente. C'è una tendenza a riutilizzarlo, oltretutto noi veniamo da esperienze formative nel campo del recupero della pietra dei materiali antichi da costruzione e proprio per in continuità di questo discorso vogliamo anche conoscere bene il materiale e capire oggi la tecnica che cosa ci consente di fare sul materiale. Quindi sulla pietra ci siamo rivolti a uno dei migliori e dei più bravi nella zona per avere anche in questa occasione un momento di formazione importante. Noi siamo una provincia che produce marmo, che ha una tradizione intorno alla lavorazione del marmo. Certo, siamo una provincia che produce marmo, produce pietra, produce ottime pietre e l'utilizzo della pietra oggi sta diventando sempre più importante, in alcuni casi diventa una prescrizione nei centri storici o nelle aree vincolate, per cui conoscerle e sapere le reazioni agli agenti atmosferici o capire come è possibile risolvere alcune problematiche anche estetiche che si verificano. È per noi in questo momento una cosa importante. Il marmo è il nostro patrimonio artistico architettonico, basti pensare che senza il marmo insomma noi non avremmo tutto il patrimonio artistico che adesso abbiamo. Cosa sarebbe stato Michelangelo che andava a selezionare i blocchi nelle cave personalmente senza il marmo? Grazie.